I televisori Samsung della serie H6200 sono Smart TV dotate di pannello LED Full HD e tecnologia 3D. Questi TV sono dotati di un design molto moderno, lo stand e la cornice finemente rifinita sono state accuratamente studiate per regalare una sobria eleganza al tuo salotto e permetterti di concentrare la vista su ciò che stai guardando. Il retro del TV è come al solito dedicato alle porte di comunicazione, ingressi ed uscite sono numerosi e consentono di interfacciare facilmente ed in modo intuitivo il dispositivo con apparati esterni. I TV Full HD Samsung della serie H6200 montano un display a LED con processore di immagine 3D Hyper Real Engine e diverse tecnologie per il miglioramento dell'immagine come Wide Color and Answer Plus e Clear Motion Rate 200. Il tutto si traduce in immagini estremamente dettagliate con ottima gamma di colori e soprattutto prive del fastidioso effetto after image. La tecnologia 3D è ovviamente precisissima e vi regalerà un'esperienza di intrattenimento come al cinema, questo grazie alla performance del pannello ma anche al fantastico sistema audio con Dolby, BTS Premium Sound e 3D Sound per coinvolgervi fino all'ultimo secondo durante la visione dei film, che vi consentirà un facile accesso ad internet mediante cui sarà possibile navigare, guardare film in streaming, sfogliare le notizie, chattare sui social network o addirittura giocare in compagnia. Gli Smart TV di Samsung ti offrono il meglio della tecnologia con una semplicità nell'esperienza di intrattenimento mai sperimentata prima, grazie anche alle esclusive funzioni Smart Interaction ed S Recommendation. Samsung Smart TV non solo è in grado di seguire le tue indicazioni vocali e gestuali per cercare nei palinsesti qualcosa che ti piaccia, ma è anche capace di scoprire da solo i programmi che potrebbero piacerti basandosi sulle tue abitudini e sui tuoi gusti. A tutto questo si aggiunge la nuova funzione football ideata per gli amanti dello sport, che vi permetterà di godere in pieno tutte le emozioni del calcio stando comodamente seduti in poltrona, ricreando una vera e propria atmosfera da stadio. Samsung H6200 è una Smart TV completa dal design elegante, un dispositivo adatto ad ogni soggiorno ed ideale per gli amanti dell'intrattenimento.